Io volevo chiamare Monsignor Grandis perché il messaggio da parte del Vescovo che non ha potuto venire oggi mi sembra assolutamente opportuno in questa fase delle nostre premiazioni dove premiamo quattro realtà importanti del volontariato veronese. Il mio compito in questi giorni è sempre di rappresentanza perché il nostro Vescovo non ha ancora il dono della ubiquità e quindi mi incarica di far sentire la sua presenza in questo momento. Io vedevo qui che c'è il volto più bello della nostra società e il volto anche che dà speranza e riflettevo in cuor mio come sia del vocabolario e sia anche dell'attività molte parole e molte iniziative hanno nel pensiero cristiano il loro sorgente per esempio il tema della solidarietà noi lo utilizziamo molto per comprendere che Dio è stato solidale con l'umanità attraverso l'incarnazione. Quindi il mio compito è anche in questo momento in cui si fanno tante manifestazioni di festa di riconoscimenti, di ricordare anche che il festeggiato è questo bambino fragile che la fede cristiana confessa come il Dio che si è fatto uno di noi, si è fatto solidale. Quindi a nome del Vescovo e anche di questa istituzione che è confessionale ma in questo momento vorrei presentare anche il volto umano, il volto laico della Chiesa Cattolica perché il Natale è la festa dell'umanità, del Dio che si fa uomo vorrei augurare a tutti, alle famiglie, un santo Natale.